Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali, così scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale della pace che si celebra a gennaio. Il servizio di Paolo Piras. La propaganda che usa i migranti come capro espiatorio semplice di problemi complessi e lontani. Contro questa deriva, di nuovo, scrive Papa Francesco in un discorso concepito per la giornata mondiale della pace, primo gennaio, ma che è stato reso nota oggi nella giornata mondiale del migrante. Non sono sostenibili, scrive Francesco, i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Nel mondo 280 milioni di persone sono fuori dai loro paesi d'origine, altri 40 milioni fuggono da conflitti interni, altri 18 da eventi climatici e il conto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che saluta questa giornata con lo slogan With Dignity, con dignità, perché è la dignità di chi ha diritto a migrare, a dover essere bilanciata con la sovranità delle nazioni. Il Global Compact, firmato a Marrakesh da oltre 160 paesi, è un passo importante, ma secondo l'Oxfam in Italia, invece,